Ciao a tutti, questa mattina un video velocissimo per presentarvi un corso di cucina professionale che terrò in marzo, dal 4 all'8 di marzo, sono quindi 5 giorni, presso l'associazione enogastronomica dietro ai fornelli, fa anche corsi di formazione, questo è già il secondo che tengo per loro, ci sono già stato 3 anni fa, il corso è un corso ovviamente di introduzione alla cucina professionale, non si può pretendere di diventare cuochi in 5 giorni, però insomma sono importanti basi che un cuoco deve avere, anche solo per rendersi conto di cosa significa cucina professionale prima di buttarsi veramente in questo mestiere che è duro, molti ci si buttano, spendono tanti soldi, magari addirittura aprono un ristorante e poi dopo un anno lasciano perdere, quindi un corso di questo tipo ha tutto il suo senso. L'associazione dietro ai fornelli mi ha chiesto un corso di tipo teorico pratico, quindi ci sarà la possibilità di usare effettivamente le attrezzature professionali presenti nella associazione, nella cucina dell'associazione e cosa vedremo? Vedremo quello che un cuoco deve saper fare, quindi carne, pesce, risotti, brodi, salse, tagliare, un po' saper usare un coltello, ovviamente il coltello bisogna usarlo per qualche settimana per riuscire a padroneggiarlo come si deve, però insomma le basi perché molti usano il coltello e già dall'impostazione della mano si capisce che non hanno imparato sul serio ad usarlo. Per il resto io sarò lì ovviamente a tempo pieno, la sera sono libero, me ne andrò in giro a godermi Lecce, una città stupenda che amo tantissimo, ho già tenuto tanti corsi a Lecce, non casualmente, quindi se avete anche solo voglia di venirvi a bere un caffè a fare 4 chiacchiere e la sera mi troverete. Le informazioni le trovate qui col dito puntato sulla pagina della scuola, potete chiedere e iscrivervi direttamente con loro, poi ve le riporto anche nel box informativo che c'è sotto al video e potete anche iscrivermi, come al vi do i riferimenti delle persone che si occupano della cosa, io sono solo il docente, la scuola non è mia, e cosa? E arrivederci se decidete di passare, ciao!